In Puglia l'acqua resta pubblica. Il Consiglio regionale ha approvato una legge che sostanzialmente crea i presupposti necessari affinché il servizio idrico resti nelle mani dell'acquedotto pugliese anche dopo il 2025, quando scadrà l'affido, così da evitare che il servizio venga messo a gara e dunque affidato a privati, come prevede una direttiva europea. L'approvazione della proposta assicura l'ingresso dei comuni nel capitale sociale di ACP, permettendo così all'autorità idrica pugliese di avere tutte le opzioni contemplate dalla legge. Pubblica due volte, innanzitutto perché l'acqua è di tutti e noi che la andiamo a prendere dall'altra parte delle montagne la paghiamo sia pure in parte ai nostri fratelli della campagna, della Basilicata, siamo ovviamente grati per questo dono, ma pubblica due volte perché verrà distribuita da Acquedotto Pugliese che sarà alleato dei comuni di tutta la Puglia. Quindi acqua pubblica garantita a prezzi assolutamente bassi, tra i più bassi d'Italia, nonostante l'impiego dell'energia, l'impiego degli impianti che servono, ripeto, ad andarla a prendere dall'altra parte delle montagne. Ora tocca ai comuni pugliesi che entro 90 giorni potranno costituire una società per azioni denominata Società Veicolo, a totale partecipazione pubblica e a controllo congiunto di tutti i comuni. Per il capitale sociale la regione Puglia metterà a disposizione l'importo massimo di 400 mila euro. C'è da fare ancora molto lavoro, questo è solo l'inizio, però è un inizio promettente perché ha visto una regione compatta rispetto all'idea di mantenere l'acqua che per noi è un valore fondamentale perché siamo una regione asciutta, secca, quindi senza l'acqua, una conformazione come quella che abbiamo che conserva di avere l'acqua buona a tutti e quindi continueremo così, continueremo con una società pubblica ma partecipata dai comuni.